La cosa interessante di questa compagnia è che la compagnia è stata creata un anno fa da un master per attori che abbiamo fatto proprio qui al Teatro San Babila all'interno di Mythos, che è questo festival che da tre anni stiamo cercando di sviluppare proprio qui come casa del teatro al Teatro San Babila. Degli attori hanno fatto questo master e da lì 5 attori mi incuriosivano tantissimo e a quel punto ho chiesto a loro se avessero voglia di creare una produzione e quindi continuare quell'avventura che poi oggi è diventata nuvole di questo spettacolo. Attori veramente straordinari, bravissimi, che mi hanno sopportato tantissimo e che forse in qualche modo mi hanno stimolato e mi stimolano e adesso non so, ma in questi giorni ho chiesto a loro ma non sarebbe interessante continuare in qualche modo a non lasciare che la cosa finisse qui in questa produzione perché sono degli attori che secondo me sono molto eclettici e quindi quando gli attori sono in questo modo come loro a me iniziano ad aprirsi delle finestre e quindi dovete venire.